Se cos'è successo? No. Il cane del Shur Giuseppe, l'entrato nel cortile di casa nostra. Eh? È corso dietro il gatto, l'ha preso, ci ha dato un morso e l'ha ammazzato. Cosa c'è da mangiare stasera? Coniglio. Ma è possibile che tutte le volte che muovi un gatto tu mi cucini il coniglio? Fammi due uova, va?